Io penso che la sua prima reazione è interesse, direi anche con un po' di inquietudine, però con grande interesse perché lui dall'inizio ha capito che quello non era soltanto un tema specifico nell'area sindacale, ma era un problema che aveva a che vedere con tutta la vita in Polonia. Questo è stato la cosa che mi sembra che dall'inizio lui ha capito. Io penso che in quell'incontro privato che lui ha avuto con Baguenza, poi ha salutato Mazzovieski, eccetera, lui soprattutto ha ascoltato, le interessava capire da quelle persone che erano così impegnate nel movimento Solidarnoche, movimento sindacale, capire esattamente qual era la idea, il contenuto e il fine che loro si proponevano con questo. Naturalmente lui ha detto qualche cosa anche a loro, di stimolo in un quadro molto più vasto del quadro puramente sindacale, nel fargli vedere che a livello personale, a livello sociale e naturalmente a livello nazionale, un paese libero si caratterizza perché le persone che formano parte di quel paese possono creare e sviluppare organizzazioni anche nel campo sindacale e sociale. Quindi era la dottrina che lui ha molto tempo prima ancora di essere papa, lui aveva contenuto in qualche modo in quel libro stupendo che lui ha scritto prima ancora di arrivare al pontificato, che era persona e atto. E lì c'era in nuce il grande tema della libertà individuale e quindi dopo aver ascoltato Baguenza, Mazzovieski, eccetera, lui le ha detto che era nell'ambito proprio umano di creare quelle organizzazioni che loro pensavano che erano giuste per il paese. Vedi, non immagino Giovanni Paolo II in tutti quei anni dando dei consigli di carattere tecnico sulla organizzazione sindacale, sulla influenza di un libero sindicato nella vita del paese. Non lo immagino. Non era la sua competenza, però certamente alla base di tutto questo stava il pensiero di Giovanni Paolo II che ha influito e ha influito poderosissimamente, io penso, insolidarnos e poi nell'evoluzione futura o i grandi cambiamenti in Polonia. Per questo, se si vuole pensare, riflettere sull'influenza di Giovanni Paolo II in quegli anni in Polonia, a partire di Solidarno e altro, si deve andare previamente alla sua filosofia politica, alla sua concezione dell'uomo nella vita sociale. Io penso che lì sta tutto. Il problema, mi pare, è sempre la questione del valore di una idea, una idea sull'essere umano, una idea sull'essere umano individualmente considerato o in società. a partire da quella idea si può sviluppare un sindacato libero, si può sviluppare una concezione, una configurazione sociale. Senza quella idea previa nulla di tutto questo può succedere. di enorme tristezza, di grande preoccupazione. Nella mente di Giovanni Paolo II era molto chiaro in quel tempo tutto quello che era successo lungo l'anno 1980. Compreso quel periodo, verso la fine del 1980, quando io ero in Polonia, in quel periodo, dove il mondo aveva la certezza che la invasione di Polonia era imminente. E questo giustifica quella misura eccezionale di Giovanni Paolo II di scrivere una lettera personale a Leonidas Brezhnev, il cui testo è molto interessante. Lui chiedeva a Brezhnev di eliminare le ragioni della tensione e per fare questo Giovanni Paolo II menzionava l'atto finale di Helsinki, che sia Russia che la Polonia avevano siglato. E i due principi, soprattutto di quel atta finale, era la sovranità nazionale e la non ingerenza esterna. Quindi Giovanni Paolo II si appelava non già a principi cristiani che probabilmente Brezhnev in quel momento non le avrebbero mosso per nulla, si appelava alla importanza della legge, alla importanza dei documenti internazionali siglati sia della Polonia che della Russia. Naturalmente, alla sua domanda, mi ricordo la enorme tristezza di Giovanni Paolo II e la sua prima reazione, che non è stata nell'Angelus di quel giorno, giorno, era il giorno dopo il 12 dicembre dell'81, lui ha parlato quella frase, che io penso il mondo ha capito immediatamente, non più sangue polacco deve essere versato. Lui si riferiva all'enorme contributo del sangue polacco versato durante l'ultima guerra e in questa situazione che lui vedeva pericolosa diceva non più sangue polacco versato. That letter was before the beginning of the martial law in Poland. Sorry, could you repeat? That letter you have described to Brezhnev was before the start? Yes, yes, was. Questa lettera è stata verso la fine del 1980, quindi un anno prima. Dal mio punto di vista, ed ero in Polonia a dicembre del 1980, dal mio punto di vista quella lettera ha avuto una influenza straordinaria. Non tanto al pericolo che si prevedeva di una invasione dalla Russia, ma soprattutto di un'invasione dalla Germania dell'Est, che era l'altro grave pellicolo che... C'è stato poi un periodo dove si è deciso di non invadere il paese, c'è stato il cambiamento, come lei sa, da Ghierek a Kania, e tutto quel periodo di Kania spesso andando a Mosca per vedere che cosa... Poi il cambiamento con Jaruzelski e la decisione radicale di quel... che era una situazione molto curiosa perché la legge, la Costituzione polacca, non contemplava la possibilità di uno stato di eccezione, non c'era nella Costituzione polacca. Era tecnicamente stato di guerra. Era quella la denominazione tecnica che si applicava a quella situazione. Quindi la reazione del Papa era di grande preoccupazione, però direi allo stesso tempo che mi è sembrato che noi non ha perso la fiducia in evoluzioni future, come poi è successo. cosa John Paul II ha fatto per proteggere la solidarietà dopo l'inizio della legge marciale? Cosa era la speculazione? Cosa era vero? Guardi, dal mio punto di vista quello che è stato più efficace è stato far vedere al mondo America e Europa, far vedere tutti, che gli eventi che si stavano sviluppando in Polonia non erano affari polacchi soltanto, ma erano affari che implicavano, che minacciavano in qualche modo Europa e in qualche modo tutto il mondo. Questo è stato il pensiero che mi ricordo le cancellerie europee hanno recepito e naturalmente anche negli Stati Uniti hanno recepito. Non era un affare estrittamente polacco. Era un problema di diritti umani calpestati molto gravemente in una parte del mondo, che era Polonia, però che poteva avere una grande influenza nel resto del mondo. Da questo punto di vista mi pare che questa è stata la migliore protezione che il Papa poteva dare all'evoluzione dei fatti in Polonia. Sì, mi ricordo che molti anni dopo è apparso una idea, in una parte della Stati Uniti, della Stampa Internazionale, parlando della Holy Alliance, la santa alleanza tra Giovanni Paolo II e il Presidente Reagan nei fatti polacchi. Per le informazioni che ho avuto e per la mia carica in Vaticano ho smentito sui fatti questa interpretazione. Dal mio punto di vista, per dire così, la filosofia politica del Presidente Reagan e di Giovanni Paolo II non potevano essere più diverse. Erano diversissime. Reagan, proprio in quel periodo di tempo, stava in qualche modo lottando con i sindacati americani, cercando di espellere a una serie di controllori aerei negli Stati Uniti che erano in sciopero, stava cercando di ridurre, mettere sotto controllo, per dire così, tutta la legislazione sulle organizzazioni sindacali americane, che era un tipo di pensiero conservatore negli Stati Uniti completamente diverso di quello che Giovanni Paolo II aveva espresso nella Lavorne Scherzens nel 1981. Quindi erano due filosofie politiche completamente diverse. Naturalmente, Giovanni Paolo II, per ragioni di principio antropologico, filosofico e cristiano, era per la libertà della Polonia, anzi di tutta l'Europa dell'Est. Reagan aveva la stessa idea per ragioni completamente diverse. Quindi non vedo, non c'è stata un tipo di santa alleanza tra il Presidente Reagan e Giovanni Paolo II. Non è esistita. Do you think that has ever John Paul II lost hope for the repairs of solidarity after its official dissolving by communists? No. Mi ricordo suoi commenti in quegli anni. Lui era preoccupato, naturalmente, per la situazione immediata, ma sapeva che il popolo polacco alla radice non era un paese comunista. era un paese cristiano sottomesso a un regime, a uno stato comunista. Questa realtà doveva fiorire. Forse si era fermato, e non si sapeva per quanto tempo, la strada intrapresa da Solidarnosc. Però sapeva che il popolo polacco non stava d'accordo con continuare a tenere quella sottomissione a un sistema che non era proprio loro. Naturalmente dopo la storia, io penso che ha lasciato molto chiaramente capire che senza Solidarnosc non ci sarebbe stato il grande cambiamento in Polonia. Senza i grandi cambiamenti in Polonia forse non ci sarebbe stato tutto l'istorico cambiamento del centro dell'est europeo. Do you know the real intentions of the Pope in his speech in Geneva in the International Labour Organization in February 1982? John Paul II has used a word Solidarity many times in that speech. Was it a form of support for the Polish Right Union Solidarity or expressing the view that the idea of Solidarity Solidarity has a great universal importance in solving social problems of different types of both? Naturalmente, io penso piuttosto che tutte e due le cose, come lei accenna, tutte e due le cose. Da una parte la parola solidarity, solidarietà, non appare, non appariva molto frequentemente nella tradizionale dottrina sociale della Chiesa. C'è qualche volta, ma non appariva molto spesso. Giovanni Paolo II l'ha introdotta nella elaborazione che lui ha fatto ulteriormente della dottrina sociale della Chiesa. Certamente pensare che lui l'ha introdotta soltanto ricordando il nome del sindacato polacco mi sembra riduttivo. Io penso che l'ha introdotta anche per una ragione filosofica, antropologica e umana. La solidarietà ha una forza e una consistenza nella dottrina sociale della Chiesa, soprattutto di quel tempo in poi. Naturalmente, allo stesso modo, era in qualche modo una maniera di aiutare a quelle persone così in difficoltà in Polonia. Era, come lei si ricorda, un periodo... Un periodo molto difficile e molto curioso. Un papa che ritorna al suo paese, che è un paese che tecnicamente sta vivendo un regime di eccezione. Non si prevedeva, almeno per molti analisti internazionali, un grande futuro. E, nonostante tutto, Giovanni Paolo II ha ripetuto in Polonia, e quindi tutto il mondo lo ascoltava, ha ripetuto i principi che erano contenuti, sempre faccio un riferimento a questo, nel suo libro «Persona e atto», dove il principio della libertà, la libertà individuale, ma anche con possibilità di riflesso sociale e politico, poiché l'essere umano è un essere sociale, e non si può pensare che l'ambito di libertà che un essere umano ha ma fa riferimento soltanto quando lui è solo, ma non quando è in compagnia di altri, in una configurazione sociale. Tutto questo lo ha ripetuto ancora lì, con grande coraggio, e il mondo lo ha ascoltato. E lo hanno ascoltato, naturalmente, anche i Polacchi, e la evoluzione futura, in qualche modo, spiega l'efficacia di questo, ricordare questi principi. Quale era l'attitudine di John Paul II sulle strutture di solidarietà? Ha dato una reale aiutazione? Se per qualche aiuto lei fa riferimento o domanda specificamente aiuto di tipo economico-materiale, le posso rispondere che questo non è stato possibile, e non si è fatto. Non c'era nemmeno il mezzo e nemmeno la possibilità, il Papa non ha voluto farlo. Ricordo, è storicamente comprovato, che Solidarnosc ha ricevuto aiuti dei sindacati americani attraverso l'ufficio che la AFLCO aveva a Parigi in quegli anni, e probabilmente ha ricevuto aiuti anche finanziari e economici di altre istanze, non dal Vaticano, non da Giovanni Paolo II. Questo ho avuto l'occasione di conoscerlo, ho avuto anche l'occasione di esmentirlo specificamente ogni volta che un cenno a questa possibilità si è fatto a livello delle stampa internazionali. e... I understand, ma... Do you know about any contact between underground solidarity, opposition structures, political opposition in Poland in the 1980s, and John Paul II. I have some information about it from Father Bonnetsky. So, come lei sa, Solidarnosc, anche dall'inizio, cioè verso la fine dell'80, e naturalmente l'81, ha avuto dal mio punto di vista una evoluzione. e da un sindacato, che poi è stato un sindacato nazionale, è diventata una forza, 10-12 milioni di persone, che era più che un sindicato, era un movimento nazionale dove molte persone erano... si sentivano rappresentate. Naturalmente, anche se erano anni difficili per i contatti personali, dalla Polonia veniva della gente in Italia, e alle volte parlavano, o avevano la possibilità di parlare direttamente con il Papa, alle volte avevano la possibilità di far arrivare delle informazioni. Era logico, era logico, il Papa seguiva gli avvenimenti del suo paese, perché lui pensava che l'evento Solidarnosc non era restritto soltanto all'ambito laborativo, non era soltanto un'associazione, o non aveva un'influenza soltanto nell'ambito laborale, era piuttosto una cosa che poteva, come così è successo, che poteva avere un'influenza nella liberalizzazione, nell'autonomia personale di tutta la Polonia, così come poi è successo. Cosa era il target di John Paul II durante il suo pilgrimaggio alla Polonia nel 1987? Cosa era diverso dal target del pilgrimaggio nel 1983? Di quel viaggio, naturalmente accompagnavo al Santo Padre, mi ricordo concretamente il discorso che lui ha fatto nel castello reale a Varsavia, di fronte al generale Jaruzelski. Era un discorso dove due idee venivano fuori accanto ad altri. Uno, che un paese, una nazione doveva essere padrone di sé stessa. Quindi era il modo di dire che il concetto bretneviano dell'autonomia, della sovranità limitata, questo non va. Secondo aspetto, che lui ha ripetuto molto chiaramente in quel discorso al castello reale a Varsavia, che le persone non sono soltanto oggetto delle decisioni politiche, devono essere anche soggetti delle decisioni politiche. Cioè, devono partecipare nella elaborazione delle decisioni politiche. Naturalmente ricordo da una parte la chiarezza con cui il Papa esprimeva questi principi, d'altra parte la serietà con che Jaruzelski ascoltava quel discorso del Papa. Poi lui ha risposto, ha detto le sue cose, eccetera. E poi mi ricordo anche alla fine del viaggio una lunga conversazione nell'aeroporto tra il Papa e il generale Jaruzelski. Quindi non era ancora chiaro il futuro nel 1987. Il Papa continuava a diffondere le sue idee antropologiche e cristiane sull'essere umano e sulla vita sociale dell'essere umano. Per il Papa, aveva il suo regno dell'eigerio del Giovanni di Qurei, cioè, ha detto che era un'efforzimento della mano trasera di quanto riguardava la via le sue politiche? only to defend the dignity of human being in terms of socialism. What is the real attitude of John Paul II towards socialism and ideology? Io penso che tutto questo è molto chiaro nell'opera insieme, nell'opera scritta di Carol Wojtyla, prima di essere Papa e poi durante gli anni del suo pontificato. Una visione materialistica della storia dell'essere umano non è compatibile certamente con il pensiero cristiano. Nel primo viaggio di Giovanni Paolo II in Polonia nel 1979, mi ricordo nella sua omilia alla Piazza della Libertà a Varsavia, una frase che lui ha detto che la gente che lo ascoltava e che lo ascoltava anche in televisione ha capito perfettamente. Togliere Cristo della storia dell'uomo è un atto contro l'uomo. Quando la gente forse si aspettava che diceva è un atto contro Dio, il Papa ha detto è un atto contro l'uomo. Questa frase che nella sua sintesi mi sembra perfetta ha avuto un effetto moltiplicatore attraverso gli anni tra il 1980 e il 1990 o il 1989, un effetto straordinario nella mentalità della gente in Polonia. E lì è chiaro una sua idea del socialismo. Naturalmente il Papa durante quegli anni, anche nella lettera che lui ha scritto a Vresnev, ma anche nella lettera che lui aveva scritto nell'80, agosto dell'80, al Cardenal Micinski e alle autorità polacche, lui diceva questo che sta succedendo non è contro nessuno, è a favore di... Naturalmente era a favore della piena pressa di coscienza di che cosa è l'uomo e che cosa è la libertà dell'uomo. Naturalmente per le autorità del socialismo reale in Polonia e anche nell'Unione Sovietica questo non era accettabile. Forse, forse anni dopo la persona che lo ha capito e che lo ha capito bene è stato il signor Gorbachev, con cui il Papa poi si è incontrato nell'89. Did John Paul II think that the ideas of his social thinking and ideas of solidarity had been fulfilled in the process of transformation in Poland after 1989 on the social and economical level and political. Do you think that John Paul II was a bit disappointed? Non penso che sia stato deluso. La idea della libertà si era realizzata. Adesso bisognava spiegare, ed è quello che lui ha fatto nei viaggi successivi, quale è l'uso adeguato della libertà umana. che la libertà ha una struttura morale, che la libertà senza responsabilità e anarchia. Tutto questo è venuto dopo. Ma l'obiettivo della sovranità nazionale, della libertà nel paese, della libera scelta delle persone per creare associazioni, tutto questo era riuscito. Naturalmente mancava per fare, poi lui lo ha fatto nei viaggi successivi, e spiegare quale è il vero uso della libertà. Ma non scordiamoci che questo è stato il grande lavoro di Giovanni Paolo II, non soltanto in Polonia, ma nei suoi viaggi in tutto il mondo, compresa l'America. Quale era l'attitudine di John Paul II verso il capitalismo soccorso? una economia di mercato libera. Quale pensava di John Paul II sui possibilità di collegare l'idea di solidarietà e la realtà di una economia di mercato libera? Mi ricordo una conversazione personale con Giovanni Paolo II una volta che si parlava proprio di questo tema che lei adesso accenna. e ricordo il commento del Santo Padre in quel momento. Il capitalismo sta avendo bisogno di una molto profonda revisione, riflessione morale, etica. quando lui diceva queste cose e faceva una critica illuminante e illuminatora dei certi limiti del capitalismo alcune persone in America anche in ambienti cristiani dicevano attenti attenti, questo non è così perché loro pensavano che il capitalismo è la unica forma sociale dove il cristianismo può vivere. questo non è così. La storia non prova questa affermazione. quindi il Santo Padre che naturalmente non si presentava mai come un economista, come un esperto in teoria economica sì che si presentava come un grande esperto di etica che era il suo campo dove eccelleva in un modo straordinario e naturalmente criticava gli aspetti criticabili di un capitalismo e degli eccessi di un capitalismo che non tiene conto sufficiente della solidarietà umana e di altri parametri. Quindi il suo pensiero era che il capitalismo aveva bisogno di una profonda revisione etica. Do you remember what were the intentions of special intentions and targets of the pilgrimage of John Paul II in 1981? The first one after the achieving of freedom and collapsing communism. Do you think that John Paul II wanted them to warn Polish society about the dangers of freedom, dangers of free market economy and dangers of democracy? Mi ricordo il viaggio che lei menziona perché lui ha scelto un tema da sviluppare in tutto il viaggio che era stupendo. Ha scelto di sviluppare nelle diverse omelie di quel viaggio i dieci comandamenti che è come per dire così come l'abici di qualsiasi catechesi cristiana almeno dal punto di vista etico. Pensava lui che Polonia non conosceva questo pensava che lo conosceva però voleva insieme perché lui era nel suo carattere in tutte le sue cose molto positivo non negativo ma molto propositivo voleva insieme spiegare parlare delle possibilità straordinarie della libertà umana e anche dei rischi della libertà umana e quindi quell'insieme di omelie rimangono come un documento straordinario che io penso che continua ad essere molto attuale nella Polonia di oggi ma in quel momento è stata una idea illuminante quella che lui ha sviluppato. Do you remember the visits of leadership of Solidarity in the Vatican in 1996 and next in 2003? What was the attitude of John Paul II towards a new Solidarity because the structure of Solidarity was rebuilt after the round table and do you think that John Paul II was pleased about the direct involvement of Solidarity and the governing the country and the government what was the point of John Paul II about the role of the trade unions and the political parties and the hierarchy of the church and the public alive and the conditions of normality after the achieving collapsing communism and achieving freedom. Mi ricordo anche quelli incontri che lei menziona e sconcertantemente c'era una grande somiglianza con il primo incontro del 1981 in quel caso con Baguenza e Mazzovieschi e poi questo di tanti anni dopo il papa si è limitato a ascoltare nella maggior parte di quell'incontro ha ascoltato molto voleva capire come quelle persone vedevano la situazione che si stava sviluppando e anche il futuro naturalmente il papa era informato anzi informatissimo dei cambiamenti avvenuti ma le interessava ascoltare che cosa avevano da dire e poi ha ricordato qualche principio di natura generale ma non è entrato minimamente nei particolari dovete fare questo dovete fare quest'altro il vostro ruolo è nell'ambito sindacale ma non nell'ambito politico in questo lui non è entrato come sempre lui ha ricordato dei principi dei principi bassici e poi si è appellato alla responsabilità di quelle persone che volevano sviluppare quelli principi in un modo pratico concreto ma in quel aspetto tecnico concreto il papa non ha dato della indicazione do you agree with the tesis that the thought of John Paul II the democracy without values becomes a hidden dictatorship even totalitarism the dictatorship of the rich of the strong has its source and the critical view of democracy about democracy we can find that thought in the encyclical centibus annus and in the speech of John Paul II in the Polish parliament in 1999 as well does that thought lead to the conclusion that society should have a fundament in faith in God and is it the only way to avoid relativism to protect rights of every human being what did John Paul II think about it of course from your point of view very interesting your question but to answer I should consider take a consideration Giovanni Paolo II was able to be able to as a philosopher and anthropologist was able to be able to about the human being and also on the social and political of the human being on a human being purely rational and philosophical without necessarily bringing an argument of faith and from this point of view he was an expert in the study and in the consideration of the nature of the human being he saw that freedom is freedom for something and that freedom is an internal structure that is ethical and that the must be in a certain way is inseparable from being as a person these were his principles of base naturally when he saw not excess of freedom that would not exist ever but degeneracy of human freedom so he and said this non e e questo lo ha fatto mi ricordo in polonia in viaggi ulteriori e lo ha fatto soprattutto lo ha fatto soprattutto lo ha spiegato molto bene in un viaggio del 1995 nel cinquantesimo anniversario delle Nazioni Unite nel palazzo di vetro nell'assemblea generale quando ha parlato della struttura morale della libertà e stava parlando con rappresentanti di tutta la comunità internazionale quindi è chiaro che la domanda libertà sì ma libertà perché cosa questa è una domanda che Giovanni Paolo II poneva alle persone e cercava di risponderla con tutta la sua filosofia umana e tutta la sua fede cristiana insieme qual è il senso delle parole di John Paul II su necessità di solidarietà che John Paul II ha detto queste parole in Torvergata in 2000 in 2000 ricordo durante il periodo del giubileo nell'incontro con i giovani nel giubileo dicevo che la parola solidarietà appariva poco nella dottrina sociale della chiesa la dottrina tradizionale della chiesa è una parola molto bella perché implica un modo di rapportarsi con gli altri Giovanni Paolo II lo ha impiegato molto è possibile che lui ricordasse nella sua mente il nome solidarnosc tradotto all'italiano all'inglese o al francese però il concetto in sé di solidarietà lui lo ha impiegato molto e non necessariamente riferito al fatto che il primo sindacato libero in Polonia nei tempi moderni aveva questo nome ma è la ricchezza interna di questo concetto del rapportarsi con un rapporto solidale con le persone molto spesso che hanno poche risorse economiche eccetera tanto è vero che lui direi che questo concetto di solidarietà lo ha globalizzato lo ha globalizzato e ha parlato dei rapporti di solidarietà tra paesi tra continenti quelli più affluenti con più risorse con quelle che hanno meno risorse quindi ha fatto insomma di questo concetto un pilare della dottrina sociale della chiesa per me così may I ask a question that I haven't sent for you yeah do you think that teaching of John Paul II and his figure was was a bit manipulated for political reasons and Polish political life especially but not only in Poland was John Paul II has done Paul II conscious about the dangerous the danger la figura il pensiero di Giovanni Paolo II era e così gigantesco in tutti gli anni del suo pontificato che non è da stupirsi se persone o istituzioni hanno cercato di instrumentalizzarlo nel senso di appropriarsi dell'autorità morale di Giovanni Paolo II per giustificare un certo atteggiamento personale ancora è più comprensibile che questo possa essere stato intentato cercato in qualche modo in qualche momento nella storia contemporanea della Polonia non mi stupisce che sia stato così ma è una figura oltre ad essere così ricca così densa di pensiero è una figura così scomoda così è scomoda perché appella continuamente alla propria coscienza che poi quelli che hanno cercato di strumentalizzarlo si sono trovati che quello esplode e quindi è scomodissimo fare appello a Giovanni Paolo II perché la ricchezza del suo pensiero non lo fa esfruttabile da nessuno questa è la idea che mi pare possiamo anche menzionare casi concreti forse non è il momento di menzionare questi casi concreti ma tutti quelli che hanno cercato di strumentalizzare l'autorità morale di Giovanni Paolo II poi li è esploso quello in mano è stato molto peggio per l'autorità di per l'autorità di e As I mentioned to you before, it's not really linked with Solidarity but from the point of view of the international contest is there, which is what happened with Gorbachev. That was, I was in Moscow in 1988 with the delegation, oh, ero con la delegazione della Santa Sede nel 1988 a Mosca, siamo stati ricevuti dal signor Gorbachev, allora segretario generale Partito Comunista, Presidente della Unione Sovietica, eccetera, eccetera, il Cremlino, Giovanni Paolo II ha avuto ancora in quell'occasione, non c'erano stati di contatti previ, non c'era nemmeno rappresentanza diplomatica tra la Santa Sede e la Unione Sovietica, Giovanni Paolo II ha avuto un gesto di audacia straordinaria, ha scritto una lunga lettera al signor Gorbachev che abbiamo dato a lui nel Cremlino, Gorbachev ha aperto subito quella lettera, la letta completa, c'era anche un memorandum dei temi, dei temi sia dentro della Unione Sovietica che nei rapporti internazionali, eccetera, e Gorbachev ha risposto, ha detto, è molto interessante questo che dice il Papa di Roma, come lui diceva, vorrei dirvi di comunicarle che io vorrò andare a Roma a trovarlo. Questo incontro ha avuto luogo un anno e qualche mese dopo, a dicembre del 1989, c'è stata una lunga conversazione tra loro due, molti anni dopo ho trovato in un'occasione Gorbachev, già erano passati molti anni e le ho ricordato, si ricorda, Presidente, che in quell'occasione abbiamo portato a lei quella lettera del Papa e lui ricordava benissimo e mi ha detto queste parole. Ricordo benissimo quella lettera, posso dirvi che quello è stato l'inizio di tutto. Lui non ha voluto elaborare e io non ho voluto chiedere ancora a lui di più, ma queste parole, quello è stato l'inizio di tutto, sono parole dette dal signor Gorbachev anni dopo, quando i cambiamenti erano avvenuti. Questo di per sé non è direttamente collegato con gli eventi della solidarietà, ma penso che parlano del contesto generale, poiché questo è stato 1988-1989 in quegli anni. e quindi ho finito la mia lista di domande. Grazie molto a tutti, sono molto obliato, ma... il personal meeting between them and my personal problem in communicating that to the press because I didn't want to speak about Baguenza as leader of Solidarnoche it was a political thing so my way of communicating that to the press was saying the Holy Father has met this morning with Mr. Baguenza Nobel Prize of Peace Nobel Prize of Peace not leader of Solidarnoche or anything like that it was a very inherited answer maybe that was he won the Nobel Prize when? 83 or 84 something like that so that was the following year in one of the trips of the Holy Father to Poland it's very very interesting episode it was very small thing it was a very diplomatic answer instead of saying Mr. Baguenza how can we present the man everybody knew him Nobel Prize of Peace the speech of John Paul II in Geneva in 1980 when he talked about Solidarity as an idea was an intelligent form of support of Solidarność trade union movement because officially it was only about Solidarity as an idea of his social thinking there was always the ambiguity between the idea of the reality and I remember the relation I remember the program about the speech in Geneva in Radio Free Europe during the Marshall in 1982 and these allusions were completely clear for Polish society that it was a form of supporting for Solidarity movement another thing I do remember after December after 12 December 81 so when it started the start of war or whatever in Poland two days later there was a vigil of prayer in St. Peter organized by Polish residents here in Rome just to pray there in the square St. Peter Square and the Pope just spoke very briefly but he he pronounced the word Solidarity six times in five minutes six times in five minutes and that was two or three days after the decision by General Jaruzelski it's very valuable for us and the candle was in the window of Don Paul the second that's it that's it after in December December 81 I do remember that I had in that time I had a visa to go to Poland I had that visa for some months before but when I tried to get into Poland I was stopped in the I was stopped and I couldn't get into the into Poland it was impossible it was impossible Cardinal Dziwish has said that the gesture of John Paul the second in his pilgrimage during his pilgrimage in 1983 to meet like Valenza and Lina Chochowska was something that not only supported stimulated the continuation of Solidarity as a movement in Poland the only thing that is clear also to me is that he didn't he didn't say in any moment any technical aspect you should do that or that or getting contact with those people this tactical aspect he took a distance from that but insisting in the basic idea go ahead it's your responsibility blah 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 etc but not technical aspects of the thing because he didn't knew simply like that and he didn't feel that was his role to advise in technical aspects of the thing but like Valenza was in Castel Gandolfo between the presidential election in Poland in 1990 and it was a form of supporting for his presidency no no doubt about that no doubt about that yeah yeah and even in that trip that small meeting private meeting in Poland in the house in the house of the bishop he was accompanied by Danuta but his wife and two or three of the children small ones and I was present the only thing I couldn't understand because they spoke in Polish I couldn't understand but I was present there but that information about that meeting oh yeah was used in the presidential company between the election yeah and as a form of I would say manipulation of John Paul II for political reason the thing is that I have had the security that anytime anyone from this part or the other part that tried to manipulate then the whole thing exploded because because the figure of John Paul II was so difficult to 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 put with myself you know it's I could mention things nothing to do with Solidarnosc but with Radio Maria and things like that no yeah impossible to try to is trying it as well when I was in one of the trip don't remember the one of the latest trips the Holy Father was very old at the time I said to the to the Polish news agency one day attention Radio Maria does not represent the only interpreter of the Vatican position on topics because Radio Maria was presenting as we are the real commentators of the Vatican not at all I am the spokesman for the Holy Sea not Radio Maria I said clearly on the following day you 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 you